Ciao, sono Giulia di Wendyshop. Oggi vi mostro il piedistallo per macramè, pensato e realizzato da noi, per lavorare in maniera più comoda. Il piedistallo è realizzato in legno, è compatto ed è ripiegabile, è dotato di filtrine per non rigare il tavolo. Da chiuso misura solo 7 cm di spessore e quindi è facilmente riponibile nell'armadio. Per montarlo bisogna aprire le due gambe inferiori che presentano due intalli dove è possibile appoggiare il telare superiore alla distanza desiderata. Per rendere il lavoro più confortevole abbiamo fatto due fori ad altezze diverse, così possiamo infilare il bastone dove siamo più comodi e fissarlo con i gommini. Ora dobbiamo solo posizionare i due ganci compresi nella confezione. Appendere il bastone o le corde e iniziare a realizzare il macramè. Spero che il tutorial ti sia piaciuto! Scopri il nostro workshop di macramè e bricolage su wendyshop.it. Ciao e a presto!